Estendere la carta sconto benzina anche al gasolio. Lo chiede un ordine del giorno presentato dal consigliere segretario dell'ufficio di presidenza Daniela Maroni e approvato dal consiglio regionale nel corso dell'esame dell'assestamento di bilancio. Tale provvedimento potrebbe interessare i comuni delle province di Como, Varese e Sondrio, compresi entro una fascia di 10 km dal confine con la Svizzera. È arrivato il momento per poter estendere questo provvedimento anche al gasolio. Iniziamo con questi 10 km e noi abbiamo chiesto 8 centesimi di sconto. Lo sconto carburante ha sempre un grandissimo ritorno economico perché noi andiamo a recuperare il 74% di accise, andiamo a recuperare la quota parte di IVA anche per Regione Lombardia che altrimenti andavano oltre confine. Quindi non sono soldi che noi mettiamo e buttiamo, ma sono dei soldi che rientrano e che poi Regione Lombardia assolutamente li può riutilizzare per altri settori o anche per autofinanziare l'estensione del gasolio.